Allora dopo cara di questo importante recupero importante per la United perché si torna a vincere fuori casa dopo la battuta d'arresto importante della settimana scorsa a Latina. Assolutamente, noi ci tenevamo tanto a fare bene quest'oggi, era un recupero importante per noi e adesso siamo a meno uno dalla vetta e era questo l'obiettivo prefissato da tempo. Pignatiello, la firma molto importante in questa sfida, 4 gol, 3 addirittura dei tuoi forse non era mai accaduto però ci hai creduto insieme ai tuoi compagni di poter ottenere l'intera posta in palio. Beh certo, era già capitato una volta ma è stato sempre per fortuna quindi sono contento personalmente ma sono più soddisfatto della prestazione. Sapevamo che era un avversario molto difficile il Rocca Massima e siamo contenti della prestazione perché ci tenevamo, ripeto. Veniamo da un periodo un po' così di appannamento, l'importante era vincere poi ecco ho fatto 3 goli oggi ma non importa chi segna anche perché noi non abbiamo un vero bomber, noi andiamo a segno un po' tutti quanti e questa cosa è molto importante. Ascolta, un fatto molto importante, quando voi siete andati due volte in vantaggio prima di quello poi definitivo che vi ha consegnato la vittoria, ma quando siete andati sotto e quindi il Rocca Massima è riuscito ad andare in vantaggio, che cosa è accaduto nelle vostre menti? Ma questa è una bella domanda, si sa che una squadra quando va in svantaggio cerca comunque di recuperare e trova magari qualcosa che all'inizio non aveva. Noi ci siamo riusciti, grande prestazione di tutti quanti e chi è entrato è entrato, ha dato il massimo e questa volta ci è andata bene. Allora, un'altra settimana e troviamo un altro portiere nell'Atletico Rocca Massima, quest'oggi troviamo Malagigi, esordio un po' amaro, però quando sei stato chiamato i tuoi interventi sono stati decisi? Ho cercato di dare il meglio, ovviamente anche l'altro portiere è stato molto bravo, è stato anche fondamentale diciamo in alcuni interventi che a fine partita tirando le somme ha fatto la differenza, è stata una buona partita, penso anche bella da vedere, gli episodi hanno fatto la differenza per il risultato finale e questo è quanto insomma. Ecco, mister, abbiamo anche mister Emiliano Antici, si sta muovendo qualche cosa, non arrivano i tre punti di questa sfida ma abbiamo visto una squadra ben quadrata, forse più organizzata rispetto al passato, qualche cosa sta funzionando in questa rivoluzione nel nuovo anno? Diciamo sta funzionando, a vista d'occhio sembra questo, però io abituato a vederli da tempo, praticamente al primo tempo oggi abbiamo giocato malissimo, poi ovviamente quando prendi ricorda lo svantaggio, pareggi, ti ricarica, automaticamente riesci a giocare, però il problema è che noi dovremmo cominciare a giocare su 0-0 perché se riusciamo a tenere il ritmo che abbiamo avuto a fine partita, automaticamente secondo me la partita è un'altra. Ecco, mister, è proprio questo aspetto, è vero, nel primo tempo forse un po' appannati, poi due volte in svantaggio ma sempre presenti. Sempre presenti, anche perché purtroppo adesso come adesso veniamo da un periodo non troppo, diciamo, positivo. Abbiamo ripreso comunque ad allenarci benissimo alla grande, però ovviamente mancandoci adesso un pochettino il ritmo partita, se vi aveva una scossa in una partita, per esempio vince la partita di oggi, con un gol di scarto sarebbe stato ottimale per farci ripartire. Però purtroppo non è successo, ma io comunque da un certo punto di vista, togliando parte del primo tempo, sono soddisfatto perché comunque se partite comunque quando vai a tirare le somme alla fine sono deciso degli episodi. Ecco, mister, si chiude un capitolo, almeno per questo fine settimana, questo recupero, non arrivano i tre punti, ma voi fortunatamente rimanete con il ritmo partita perché sabato prossimo a Latina. Quale atletico Roccamassimo potremmo vedere in virtù di questa gara? Vediamo sempre lo stesso dato di Roccamassimo, cercare di vincere la partita, ovviamente dovremmo cercare comunque di aumentare il ritmo perché i ragazzi ancora hanno capito che se noi giochiamo a basso ritmo purtroppo non riusciamo a esprimere meglio di noi. Noi dobbiamo giocare e muoverci, se non ci muoviamo perdiamo le caratteristiche che abbiamo purtroppo, perché non ho nessuno che purtroppo punta l'uomo e dobbiamo arrivare a esempio. Oggi l'Aprilio è stato l'esempio lampante proprio, a me piacerebbe giocare come Giammanodoro, nel senso, palle in Bucadar più di rimote, a Genova ho fatto tre golle, veramente belli, comunque tre movimenti da carcetto, che ci si vede che il mister c'era un allenamento e questo dovremmo fare anche noi. Bene, grazie con il tecnico Antici e il portiere Maragigi che la salutiamo, li lasciamo alla doccia, non rimane altro che ripetere il risultato, United, Aprilia e Spugna, il comunale di Roccamassimo con il risultato di 4-3 da Daniele Porcelli e tutto, vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con Mondofutsal TV. Grazie a tutti!